Lo scenario sui mercati finanziari è un po' surreale, nel senso che tutti sanno che arriverà una recessione economica e la reputiamo molto probabile, tutti gli indicatori statistici la evidenziano, addirittura c'è una curva dei rendimenti pesantemente sotto zero, però i mercati hanno arrestato la loro caduta, i tassi di interesse hanno frenato la loro salita, il petrolio è un po' più debole rispetto al contesto. E allora, in quale contesto di analisi tecnica ci troviamo, come potrebbero aumentare le nostre probabilità se apriamo posizioni rialziste, ribassissi, giriamo la domanda a Fabio Pioli di CFA Online. Buongiorno a te Fabio. Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora Fabio, in quale contesto di analisi tecnica ci troviamo? Il trend qual è? Ieri tra l'altro sul DAX per la prima volta, dopo diverse settimane, si è visto una seduta al rialzo con una serie di volumi abbastanza intensa. Certo. Vogliamo sempre dare un piccolo disclaimer sul fatto, essendo un consulente finanziario indipendente, che le indicazioni che si vanno a fornire, non essendo state preparate come analisi di ricerca di marketing, sono da intendere semplicemente come comunicazione di marketing. Sì, la fase tecnica è interessante perché abbiamo oscillazioni, naturalmente, ma ci sono due, una verità assolutamente incontrovertibile, ossia che i minimi e i massimi sono decrescenti. E quindi dobbiamo classificare questo trend fino a quando non si abbia un massimo significativo, almeno crescente, come trend di bassista. Che sia chiaro questo perché ha delle indicazioni importanti, significa che chi si mette al rialzo si mette contro il trend. Il secondo punto interessante di analisi, ma questo non è vero in assoluto, è semplicemente interpretativo, è che dovremmo essere in un'onda 3 di Iliott. L'onda 1 è stata quella che da gennaio a marzo ha colpito il mercato e che l'ha fatto sprofondare da 28.000 a 21.065. L'onda 2 è quella che da marzo fino a giugno ha creato un movimento abbastanza incerto di reazione. L'onda 3 è quella che è partita da quel giugno, è stata confermata con la rottura di 21.065, il minimo di marzo, ed è attualmente in alto. Nonostante si sia sopra quel valore di minimo, questo non è significativo. Quindi la cosa si vincerebbe da questo, che è un'interpretazione, che il ribasso non sarebbe ancora finito. Si dovrebbe ancora eventualmente concludere tutta l'onda 3. E qui ci sono varie ipotesi, una è che si è già conclusa che questo sia il ribalzo di onda 4, e che poi seguirebbe sul campo onda 5, l'onda finale, e allora lì potrebbero iniziare con tranquillità gli acquisti. La seconda è che però l'onda 3 non sia finita. L'onda 3, sappiamo da Elliot, lo ricordiamo ai telespettatori, che sicuramente lo sanno, alcuni lo sanno, alcuni non lo sanno, non è mai la più breve del movimento. A volte la più lunga, di sicuro non è mai la più breve. E non è l'ultima, ha queste due caratteristiche. Se fosse comunque abbastanza breve, potrebbe essere già finita qui, non sarebbe l'ultima, ci sarebbe l'onda 5. Viceversa, se fosse ancora più lunga, e se anche l'onda 5 fosse più lunga, addirittura di l'onda 3, perché ha messo questo, se andrebbe a situazioni abbastanza pesanti e di ribasso. Allora, so che ti segui soprattutto, sei un esperto di lettura di book, sei un esperto di... di analisi grafica, e soprattutto segui l'analisi grafica, è di Elliot, però io, Fabio, francamente, devo farti delle obiezioni di carattere fondamentale. Allora, la prima obiezione è che, se è vero che ci fosse questa onda 3, se fossimo in un'onda 3, però, ecco, il mercato, lo shortista di equiti, si assume una grossa responsabilità, perché i tassi di interesse non salgono più e non minacciano in modo più significativo il quadro macroeconomico e quindi anche l'aspettativa degli utili. Il petrolio, semmai, diciamo così, il petrolio va a condizionare i tassi di interesse, anche il petrolio ormai oscilla intorno a quota 100, non sembra, diciamo così, più premere la sua forza. Ci sarà, ricordo, una riunione dell'OPEC il 3 agosto, la consuetà riunione mensile, e tra l'altro Biden e NBA, Mohamed Bin Salman, il principe di sua vita, si sono visti proprio alla fine di questo weekend. Quindi, con quale consapevolezza, con quale serenità andare a cavalcare uno short di questo tipo quando hai un quadro macroeconomico a livello di tassi di interesse e di prezzo del petrolio che non si muove più al rialzo? Ok, ti rispondo a due domande. La prima è quale serenità e la seconda ti rispondo alla domanda principale, quella fondamentale. Però devo rispondere anche con quale serenità, perché la serenità viene soltanto da una conoscenza delle probabilità. Quindi, senza di quella, è tutta interpretazione. Quindi la serenità non ci sarebbe. Ci sarebbe semplicemente un pensiero, un'immaginazione, un'opinione, che la mia equivale alla tua, equivale a quella di tutti gli altri. Mentre dal punto di vista fondamentale, naturalmente, tu sei uno dei più grandi giornalisti finanziari in Italia, e sai bene le cose, io posso smettere il mio punto di vista di trendere. Come trendere ho imparato nel corso degli anni che le situazioni anomale fanno parte del contesto dei mercati finanziari. Quindi, quello che non ci immaginiamo mai che possa succedere, iperinfrazione, tassi al 12%, 15%, accade non spesso, perché è la parola sbagliata, ma accade sempre, in un certo senso di tempo, sempre un episodio diverso, ma sempre un episodio appunto, un episodio che non era previsto. Io lo metto assolutamente nel bilancio questa cosa. Sarebbe qualcosa di assolutamente drammatico, perché con tassi alti, sopra l'8%, in Europa, in Italia, il debito pubblico, ho calcolato, avrebbe un servizio di 100 miliardi di euro all'anno. Immaginiamoci... Il quarto delle tasse, praticamente, se poi ci metti le pensioni, in altri 100 miliardi, ne rimane, ma tra tassi di interesse e pensioni ci siamo giocati in mezzo bilancio, cioè che rimane... Possiamo immaginarlo, ma speriamo che sia soltanto immaginazione, se diventasse realtà sarebbe una situazione molto strada. Qual è il target più abbordato secondo te e dove andare a piazzare uno stop a protezione se lo scenario dovrebbe cambiare? Allora, diciamo che l'onda 3 sia finita. Allora il rimbalzo attuale, in area 21.700-21.800 punti per quanto riguarda 20.700-20.800 punti per quanto riguarda l'Italia, è più o meno un target di rimbalzo. Dovrebbe poi proseguire e si dovrebbe andare sotto il minimo precedente, quindi sotto i 20.000, sotto i 19.800. Quello, e quindi area 19.000, tra i 19.000 e i 19.800 potrebbe essere un target, io da 5. per questo da cosa posso dedurlo, che se onda 3 non fosse finita, non potrebbe mai essere la più breve, quindi onda 5 dovrebbe essere la più breve. Onda 1 la più lunga, onda 3 la media, onda 5 la più breve, quindi non potrebbe mai andare sotto determinati livelli troppo penalizzati. Se onda 3 non fosse finita, ma ci possono avere sotto onde che dovesse continuare, gli scenari sarebbero invece di obiettivi molto più basso. Non saprei. Quello che però posso inserire nel ragionamento è una cosa importantissima. L'abbiamo già parlato in tanto tempo, ricordiamocene, perché a volte ce ne scordiamo, c'è una letteralizzazione che va avanti dal 2008 per quanto riguarda l'Italia. Un laterale tremendo che va da 25.000 a 12.000 punti e che ha fatto questi estremi varie volte nel corso di questi 12 anni. Questo è un laterale e l'analisi tecnica dice che quando si esce dal laterale ci si proietta al ribasso. E questo è il grosso pericolo, perché se l'uscita che ha portato sopra i 25.000 punti fosse una falsa uscita, sarebbe ancora più grave, perché dopo una falsa uscita si potrebbe partire all'ingiù dalla parte posta. Senti, una domanda però di attualità te la devo fare, non ti voglio trascinare nel lagone della politica, però diciamo sì, non possiamo vivere al di fuori di quella che sono le notizie che stanno in questo momento battendo tutte le agenzie insomma e che stanno imperversando su tutti i miglia. Draghi, cioè in tutto questo un supporto Draghi c'è o non c'è possibile che non riesce a... non sarebbe una dica diciamo così, Draghi alla caduta del Fuzzimip che all'inizio ti ricordi l'abbiamo avuto un effetto Draghi in positivo, no? Sì, siamo tornati a quei livelli però. Allora, cerchiamo di parlare seriamente, intanto purtroppo fino adesso Draghi non ha fatto granché, è stato in stato di emergenza, ha autoconflamato e ha gestito quello. Stava facendo dei progetti di qualche intervento strutturale piuttosto interessante. la mia opinione è che è rimarrata la Draghi perché non saprei neanche se dovessero esserci un Draghi distrettamente, potrebbe rimanere tutto così. Perché poi alla fine c'è molto fumo nelle discussioni politiche quasi si rientra spesso invece in situazioni preprogrammate. diciamo così ad esempio Mattarella non avrebbe dovuto essere presidente del Consiglio a base delle sue stesse parole invece è presente possibile la presenza di Mattarella e invece quindi penso che Draghi rimarrà. Non so se si faranno queste riforme lo spero tanto. Se sei in supporto Draghi se una diga alla discesa o Draghi o non Draghi il mercato scende lo stesso. No la mia opinione è che Draghi o non Draghi scenda lo stesso il mercato. Poi se le strutture e se le situazioni strutturali saranno importanti ti rendi conto dell'importanza di quello che stai dicendo. Cosa? Ti rendi conto dell'importanza di quello che stai dicendo stai dicendo che Draghi o non Draghi se si deve scendere si scende. Sì mi dispiace pensavo che povero Gabbiano chiederò scusa a Draghi non lo so in cui ci sarà un processo ammetterò di essere un imposto contro Draghi. Va bene ma il detto dice mai porsi contro le banche centrali per Italia e i trader diciamo così nelle sale operative. Questa loro da che parte sono? Questa è la domanda interessante sarebbe una domanda interessante da porsi. A saperlo allora invece ti chiedo un'altra cosa con riferimento invece ai singoli non mi hai detto però lo stop loss dove devo andarlo a mettere in caso di di scambio di scenario diciamo allora in caso di continuazione del ribasso se io l'idea che comunque si possa scendere ovviamente sui mercati certezze non ce ne sono comunque io un'assicurazione la devo fare non è che posso stare lì a prenderle all'inferito ah sì 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 ci mancherebbe caldeggiamo assolutamente questa cosa lo stop loss andrebbe sopra il massimo fatto in questa fase non c'è dubbio 20.800 non lo so ne farà un altro un po' più alto andrebbe sopra il massimo di questa fase perché sarebbe un rimbalzo di un da tre e poi proseguirebbe l'ordine dobbiamo andare in velocità i tempi purtroppo di registrazione dei video ormai sono diventati sempre più più stretti però io voglio parlare con te di altri due argomenti quindi dobbiamo essere stretti volevo affrontarli e approfittare della tua presenza il primo è si parla di questo scudo antispread e di questo target a 3.50 ovviamente se a 3.50 arriviamo a 3.50 entrerebbe in azione la banca centrale europea in maniera più massiva nell'acquisto di titoli di sfato io non ho le conferme non so se le hai tu però molto spesso al mercato se gli dai un livello di riferimento il mercato va a vedere le carte va a scoprire le carte io se mi citi un caso il caso più emblematico è quello dell'euro franco te lo ricordi che avevano fatto un tasso di cambio non mi ricordo quant'era forse la cifra corretta perfetta non me la ricordo però mi ricordo nel mercato ho detto vabbè andiamo a vedere vediamo un attimo e ogni volta andava a vedere se veramente c'erano i sui di stato può essere un errore aver fissato un target a 350 secondo te oppure no eh vabbè però in alternativa quale doveva essere lo strumento dovevano essere vaghi quale poteva essere lo strumento tecnicamente sì perché vedi non è qualcosa di manipolazione necessariamente è proprio a livello di psicologia collettiva si fissa sempre a un livello che si riesce a immaginare quindi diventa un supporto una resistenza psicologica che il mercato va a vedere e quindi è sempre è sempre sbagliato nel terzo livello sono profezie una specie di profezie autorealizzate tuttavia sì una pianificazione bisogna farla non so su che termini alternativi si potrebbe fare una pianificazione non è facile però ovviamente i tecnici della bici di vabbè non ti piace sto metodo offrivene un alternativo però non è facile andare forse dovevano mantenersi più generico non dare un punto di riferimento ultimo ma non da ultimo come dicono gli inglesi il titolo ci dici qualche titolo che ti piace long o short ovviamente con qualche livello di riferimento per poterci orientare sui grafici sì assolutamente allora andiamo a parlare di poste italiane ne abbiamo parlato poco insieme nel recente passato perché poste italiane come altri titoli sta affrontando un sta affrontando un supporto anzi una resistenza e andiamo a vedere cosa sta facendo perché se questa resistenza non venisse rotta poste italiane cesserebbe di salire e troverebbe appunto uno stop e un'inversione stop inversione che verrebbe che verrebbe comunque sfruttata da parte mia sicuramente perché avrebbe una probabilità superiore al 90% un'operazione di questo tipo su poste italiane ecco ci dici i livelli di riferimento? dimmi tu per cortesia che in questo momento sono adesso sono 8,49 non ho intendevo il target più o meno dove diventa interessante il titolo lo stop dimmi tu il massimo di oggi perché oggi ha fatto un massimo a 8,66 perfetto 8,67 lo stop loss il minimo della giornata se fosse tale sarebbe il trigger ok quindi se domani 8,47 quindi se così fosse vendita 8,46 al pip di 8,46 con stop loss sopra il massimo questo è la strategia il target più o meno vabbè il doppio almeno il doppio di quello intorno agli 8 potrebbe potrebbe proiettarsi al doppio sì io non ho una strategia che prevede un target ma monitorare le varie candele che ci sono successivamente però verosimilmente potrebbe farlo ok anche a 8,18 praticamente sul minimo di oggi potrebbe essere perché dovrebbe indebolisti perché ce l'avevi dato al rialzo l'altra volta questo titolo quindi ci credevi hai cambiato opinione sì forse l'altra volta era un tempo però non è entrato non è entrato forse l'altra volta non è entrato adesso non ricordo che ci sono state anche le operazioni che sono entrate il livello era molto alto era sui massimi precedenti più o meno l'ingresso non li ha mai fatti poi è sceso quindi adesso il motivo è molto semplice Giuseppe vedi quella linea che congiunge i massimi quella è una linea di resistenza è una linea di resistenza alla quale il titolo in tre giorni è arrivato se non dovesse superarla semplicemente sarebbe il punto in cui troverebbe delle vente e riprenderebbe il trend negativo perfetto 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 va bene grazie per essere stato con noi Fabio grazie ancora grazie a voi ricordiamo Fabio Pioli uno dei migliori swing trader che abbiamo in Italia grazie ancora che vi ricordo questo video lo potete vedere sulla pagina di Traderlink nella sezione video oppure più comodamente nella sezione YouTube vi registrate al canale così sarete rilattati per altri video in cui anche ci sarà Fabio Pioli grazie ancora grazie ancora Fabio grazie grazie buona giornata grazie a tutti